Ragazzi e bentornati, questo è un video registrato a 1080p a 60fps da uno smartphone di cui non vi dirò il nome così potete giudicare il video senza essere influenzati dal brand ma solo dalla qualità audio e video di questo device è a 60fps, adesso facciamo i soliti due passi verso questa zona così controlliamo anche la stabilizzazione se c'è, vi ricordo che è un 60fps a 1080p e vediamo un po' come si comporta in un pan ampio qui su questa bella zona oggi c'è una bella giornata, fa già caldo e quindi molto bene, chissà che anche a fine settimana resti così per questa domenica almeno possiamo andarsene magari al mare, macro qui sempre al solito posto, facciamo anche questo movimento che mi chiede sempre il mio amico Alfonso per vedere come si comporta nei video eccoci qua contro sole e megagalattico, torniamo in un cambio luce abbastanza importante e adesso come al solito ragazzi lì c'è la mia bellissima punto, vado a raggiungerla e me ne torno al lavoro ripeto questo video è registrato a 1080p a 60fps da uno smartphone di cui non vi dirò insomma modello, marca e quant'altro perché voglio che voi giudichiate solo la qualità audio-video senza essere influenzati in nessun modo dal brand noi ci vediamo tra qualche giorno per la recensione completa anche di lui ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti